L'incontro di oggi rientra nell'ambito di una serie di iniziative culturali, in particolare di presentazioni di libri che l'amministrazione ha voluto organizzare e sta organizzando. L'onorevole Claudio Martelli ha scritto questo libro che è una vicenda autobiografica, racconta la vicenda politica degli ultimi 30 anni attraverso storie personali, un libro che si legge con grande piacere ma che è uno spaccato della vita civile e politica del nostro paese. Sarà presente il sindaco, altri autorevoli relatori e credo che sarà un appuntamento interessante perché è un pezzo della storia del paese e in particolare la vicenda socialista è una vicenda politica che ha avuto una grande eco anche nella nostra città. Il proprio viaggio attraverso 30 anni di storia italiana e anche di storia di Martelli raccontato in questo libro? Sì è questo, è un rendiconto politico e personale di 30 anni di vita vissuta pericolosamente e intensamente tra il 68 e il crollo della prima repubblica, quindi descrivendo la formazione, la giovinezza politica in un clima che non era certo quello più favorevole ai riformisti perché era il clima della contestazione giovanile, dell'autunno caldo, degli estremismi scatenati e poi degli anni di piombo e poi la rinascita del partito socialista con la guida di Craxi, i grandi risultati nelle battaglie referendarie per la giustizia giusta sul nucleare, la grande prova di governo di Bettino sia nel domare l'inflazione, la più iniqua delle tasse, come si diceva, sia nel restituire all'Italia un ruolo nel Mediterraneo sfidando anche l'oltransismo americano, sino alla tempesta di mani pulite e alla distruzione dei partiti democratici che avevano guidato l'Italia nel corso di quei 50 anni attraverso una successione impressionante di inchieste giudiziarie e forse la più colossale operazione di polizia giudiziaria per intensità, per concentrata volontà degli inquirenti, superiore persino a quelle contro i terroristi e contro la mafia Servirebbe in questo momento di grave crisi del paese una figura politica come Craxi? Ma certamente servirebbe sempre, il talento, le qualità, il coraggio, la determinazione sono qualità sempre indispensabili in una democrazia C'è qualcosa, l'ho detto suscitando naturalmente critiche, ma non mi dispiace di questo purché se ne parli C'è qualcosa di Craxi in Renzi, appunto l'energia, la determinazione e anche un pragmatismo in qualche misura che va al di là oltre le ideologie, naturalmente ci sono anche enormi differenze di età, di epoca, di formazione e tuttavia quelle qualità continuano ad essere indispensabili per cercare di governare un paese così complicato così teso, così diviso per tanti aspetti come l'Italia Quanto accaduto ieri è sintomo di una situazione sempre più grave per quanto riguarda il tessuto produttivo in provincia di Sereno Lei ha scritto una nota particolarmente dura, particolarmente incisiva su questa situazione Si può fare impresa nel Salernitano? Lei come ha detto in passato, gli imprenditori che lo fanno sono dei coraggiosi se non dei pazzi Credo che questa vicenda porti di nuovo all'attenzione un problema che non riguarda soltanto i grandi investimenti che sono presenti a Salerno ma quelli che sono presenti un po' in tutto il nostro paese Le grandi multinazionali che hanno stabilimenti dislocati nel mondo non trovano più convenienza ad operare sul nostro territorio E questa è la vicenda che anche ieri evidentemente ha portato con anche modalità a mio parere non perfettamente in linea con quelle che sono le corrette relazioni sindacali ma nel rispetto della decisione dell'azienda Il fatto è che il gruppo inglese della Filtrona ha comunicato senza alcun altro tipo di preavviso la chiusura dello stabilimento Questo fa il paio ovviamente con tutti i nodi dello sviluppo che non sono ormai sciolti sul nostro territorio e credo sia necessaria e urgente e indifferibile rimettere di nuovo al centro la questione industriale in Campania nel mezzogiorno oltre al paese perché tutte le difficoltà che sono presenti per fare impresa in Italia nel mezzogiorno e nei nostri territori si raddoppiano Per le imprese salernitane e italiane stare nell'Unione Europea con queste condizioni con una moneta unica, un mercato unico ma costo del lavoro differente, tasse differenti è un aspetto positivo o un aspetto negativo? Il problema non è l'Unione Europea, le aziende lavorano e competono in Polonia, anche la Polonia è dentro quindi il problema è mettere mano alle riforme serie del nostro paese il cuneo fiscale che abbiamo noi non ce l'ha nessuno, il carico della burocrazia che abbiamo noi non ce l'ha nessuno il costo dell'energia che abbiamo noi non ce l'ha nessuno quindi il tema non è essere o non essere nell'Unione Europea e secondo me dobbiamo esserci in maniera convinta e a tal proposito Confindustria a livello nazionale sta predisponendo un manifesto per le future elezioni europee il punto è mettere mano alle riforme strutturali lo diciamo sempre, è bene dire ora siamo in netto ritardo il paese è in netto ritardo e viviamo situazioni per le quali uno stabilimento di 100 dipendenti che chiude a Salerno equivale all'Eletrolux di 4.500 al nord quindi anche l'attenzione, il dibattito ma anche il dibattito per arrivare a delle conclusioni deve essere forte e l'appello quindi è a tutti coloro che debbano e possono incidere sul nostro tessuto per risolvere queste questioni di carattere complessivo